L'ottavo è la Greiner, ma ci apprezziamo all'arrivo della Maiti Kainen, grandissimo tempo, pensiamo, della Mario Maiti Kainen. Ricordo che la 10 km si corre con il passo classico, ovvero sia con il passo alternato, vedete quanto spinge in questo momento la Mario Maiti Kainen, è agli ultimi 100 metri, e sta Mario Maiti Kainen, ed è al comando, ha realizzato 30.25 prima la Mario Maiti Kainen, ecco finalmente inquadrata la Benzene, la regia si era aperta a queste immagini, ve le ripropone con il numero 3, la medaglia d'oro non se la fa la Smetanina, grande prova della Benzene negli ultimi 3 km che ha recuperato lo svantaggio, ed è la Benzene, è la Smetanina scusate che arriva al secondo posto dalla Benzene, al nono posto la... Grazie a tutti!